Una situazione complessa che abbiamo ereditato, nessuno ci ha voluto mettere le mani prima e lo stiamo facendo con estreme difficoltà perché c'è una convenzione scaduta, c'è un bando impugnato ma soprattutto c'è una procedura concorsuale in corso rispetto ad una situazione economica che è stata denunciata, per cui c'è stato anche addirittura il rinvio di una decisione da parte del Tribunale, non sappiamo l'esito della procedura concorsuale che se dovesse portare un esito fortemente negativo come quella della dichiarazione di fallimento ci metterebbe in difficoltà e questo speriamo di poterlo evitare. Abbiamo messo in campo due o tre soluzioni che stiamo giornalmente monitorando, abbiamo però necessità di qualche altro giorno per capire fin dove possiamo arrivare. Noi ci attendiamo però un atto di coraggio da parte del progetto Sport, noi gli abbiamo chiesto di revocare il ricorso fatto al Tarre, se ci fosse questa ipotesi credo che ci sarebbero diverse soluzioni che possiamo mettere in campo. Noi ci attendiamo un atto di responsabilità da parte della società, visto il clima che si è creato anche in città, che accettino la proposta che le abbiamo fatte. Te mette qualcosa circa questi genitori che hanno visto questi bambini terminare anticipatamente i loro corsi? A noi ci dispiace per i genitori, d'altronde sanno che lo stesso problema è purtroppo su altre città come a Chieti, come a Lanciano, queste società che hanno gestito queste piscine hanno avuto un comportamento credo poco corretto nei confronti sia degli enti ma soprattutto dei genitori. Noi ce ne scusiamo, stiamo cercando e veramente facendo uno sforzo massimo con gli uffici per trovare una soluzione rispetto ad una serie di concause che negli anni si sono mischiate. Speriamo di poterne uscire presto.